Chi sono io? Se per una volta mi rifacessi a un proverbio, in fondo potrei forse domandarmi semplicemente chi ci conta, chi frequento, chi infesto. Devo riconoscere che questa espressione mi porta fuori strada, in quanto tende a stabilire tra certi esseri e me un rapporto più singolare, meno evitabili, più conturbanti di quanto non pensassi. Dice molto di più di quello che vuol dire. Mi attribuisce da vivo il ruolo di un fantasma e implica evidentemente un'allusione a ciò che ho dovuto cessare di essere per essere colui che sono. Forzando appena questa accezione, mi lascia intendere che quelle che io considero manifestazioni oggettive e più o meno deliberate della mia esistenza, non sono altro che la traccia, dentro i limiti di questa vita, di un'attività il cui campo effettivo è completamente ignoto. L'idea che ho di fantasma, con quanto comporta di convenzionale, sia nell'aspetto sia nella sua cieca subordinazione a certe contingenze di ora e di luogo, vale innanzitutto per me come immagine finita di un tormento che potrebbe anche essere eterno. Può darsi che la mia vita sia essa stessa un'immagine di questo genere e che io sia condannato a tornare sui miei passi anche quando credo di esplorare, a cercare di conoscere quel che dovrei semplicemente riconoscere, ad apprendere una piccola parte di ciò che ho dimenticato. Questo punto di vista non mi appare falso se non in quanto mi presuppone a me stesso, colloca arbitrariamente su un piano di anteriorità, una figura compiuta del mio pensiero, che non avrebbe ragione di entrare in composizione col tempo e implica in questa stessa nozione di tempo un'idea di perdita irreparabile, di penitenza o di caduta, la cui infondatezza morale è per me fuori discussione. L'importante è che le disposizioni particolari che mi vado lentamente scoprendo qua giù non mi distraggano dalla ricerca di una disposizione generale che mi sarebbe peculiare e che mi ha dato. Al di là delle inclinazioni di ogni genere che riconosco in me, delle affinità che sento, delle attrazioni che subisco, dei fatti che mi succedono e che succedono solo a me, al di là dei tanti gesti che mi vedo compiere e di certe emozioni che solo io provo, mi sforzo di fronte agli altri uomini di capire in che cosa consista se non da che cosa dipenda la mia differenza. Non è forse nell'esatta misura in cui prenderò coscienza di questa differenza che saprò rivelare a me stesso ciò che fra tutti gli altri sono venuto a fare in questo mondo e di quale messaggio unico sono l'atore per non poter rispondere della sua sorte che con la mia testa. Sulla linea di tali riflessioni rietrerei auspicabile che la critica, rinunciandolo su bene alle sue più gelose prelocative, ma assegnandosi tutto sommato un fine meno futile della meccanica esposizione delle idee, si limitasse a svolgere competenti incursioni proprio su quel terreno del quale soprattutto ritiene che le sia negato l'accesso e che è, al di fuori dell'opera, quello in cui la persona dell'autore, in preda a minimi eventi della vita corrente, si esprime con piena indipendenza, in maniera spesso inconfondibile. Vi ricordo del seguente aneddoto. Victor Hugo, che verso la fine della sua vita, rifà con Giuliette Drouet per l'ennesima volta la stessa passeggiata, interrompe la sua silenziosa meditazione solo al momento in cui la carrozza passa davanti a una proprietà accessibile attraverso due porte d'ingresso, una grande e una piccola, per disegnare a Giuliette quella grande, ingresso a cavallo, madame, e udirla, indicando la porta piccola, rispondere l'ingresso pedoni, messie. Poi, un poco più avanti, di fronte a due alberi dai rami vicendevolmente intrecciati, soggiunge Filemone e Bauci, sapendo che a queste parole, Giuliette non avrebbe risposto. E l'assicurazione fornitaci che questa toccante cerimonia sia ripetuta ogni giorno per degli anni, come potrebbe il migliore degli studi intorno all'opera di Victor Hugo, darci a tal punto l'intelligenza, la sensazione sbalorditiva di quello che gli era, di quello che è. Quelle due porte d'ingresso sono come lo specchio della sua forza e quello della sua debolezza. Difficile dire quale sia quello della sua meschinità e quale quello della sua grandezza. E a che varrebbe tutto il genio del mondo se non la mettesse accanto a sé quella adorabile correzione che viene dall'amore e che sta tutta nella risposta di Giuliette? Il più sottile e il più entusiasta tra i commentatori dell'opera di Victor Hugo mai saprà mettermi a parte di qualcosa che stia alla pari con questo senso supremo della proporzione. Come mi piacerebbe possedere su ciascuno degli uomini che ammiro un documento privato dello stesso valore. In mancanza di meglio mi accontenterei anche di documenti meno significativi e meno autosufficienti dal punto di vista affettivo. Non ho il culto di Flaubert. E tuttavia quando sento affermare che per sua stessa ammissione con Salambo egli si è proposto semplicemente di dare l'impressione del colore giallo come Adam Bovary di fare qualcosa che avesse il colore delle muffe in quegli angoli dove stanno gli scarafaggi e che di tutto il resto gli importava poco tali preoccupazioni in fondo extralitterarie mi dispongono favorevolmente nei suoi confronti. La magnifica luce dei quadri di Courbet è per me la luce di Place Rendome nell'ora in cui cadde la colonna. Ora, un uomo come De Chirico se consentisse a esternare integralmente e ben inteso senza arte entrando nei dettagli più infimi e anche più inquietanti ciò che essenzialmente lo fece agire un tempo quali passi avanti non farebbe compiere all'esegesi. Senza il suo concorso e anzi contro la sua volontà sulla base soltanto delle sue tele di allora e di un quaderno, un manoscritto che ho tra le mani non sarebbe pensabile ricostruire se non in modo imperfetto l'universo che fino al 1917 fu suo. Mi spiace non poter colmare questa lacuna non poter cogliere pienamente ciò che in tale universo va contro l'ordine previsto istituisce una nuova scala delle cose. De Chirico ha riconosciuto allora che non poteva dipingere se non quando era sorpreso sorpreso lui per primo data l'una disposizione di oggetti e che tutto l'enigma della rivelazione stava per lui in questa parola sorpreso certo l'opera che ne risultava restava strettamente legata a ciò che ne aveva provocato la nascita ma non vi assomigliava se non nel modo strano in cui si assomigliano due fratelli o piuttosto l'immagine di un sogno di una determinata persona e la persona in carne ed ossa è e al tempo stesso non è la stessa persona una leggera misteriosa trasfigurazione si osserva nei tratti al di qua di quella disposizione di oggetti che presentarono per lui una fragranza particolare sarebbe il caso di fissare l'attenzione critica anche sugli oggetti in questione e di ricercare perché in così piccolo numero questi e non altri siano stati chiamati a disporsi in quel modo non si sarà detto niente su De Chirico sinché non si sarà dato conto dei suoi punti di vista più soggettivi intorno al carciofo al guanto al biscotto al rocchetto peccato che non si possa in tale materia contare sulla sua collaborazione per quanto mi riguarda più importante ancora per lo spirito che l'incontro di certe disposizioni di oggetti ne paiono le disposizioni di uno spirito nei confronti di certi oggetti se è vero che queste due specie di disposizioni reggono da sole tutte le forme della sensibilità mi accolgo per esempio di avere con Wismans Wismans di Enrad e di Labà certi modi così comuni di considerare le cose quali ci si propongono di scegliere con la parzialità della disperazione tra quanto esiste che sebbene con mio grande rammarico io abbia potuto conoscerlo solo attraverso la sua opera è per me forse il meno estraneo tra i miei amici ma poi non ha forse detto più di chiunque altro per portare termine estremo quella discriminazione necessaria vitale tra l'anello apparentemente così fragile che può essersi di così grande aiuto e l'apparato vertiginoso delle forze che cospirano alla nostra distruzione e mi ha reso partecipe della noia vibrante che hanno prodotto in lui più o meno tutti gli spettacoli nessuno prima di lui aveva saputo farlo se non farmi assistere a questo grande risveglio dell'automatismo sul terreno devastato delle possibilità coscienti almeno convincermi umanamente della sua assoluta fatalità e l'inutilità di cercare per mio conto di eluderlo come gli sono grato per avermi informato senza preoccuparsi dell'effetto di tutto quanto lo riguarda di quanto infrangenti di angoscia estrema occupa la sua mente con cose esterne alla sua angoscia per non avere come troppi poeti cantato assurdamente questa angoscia ma avermi enumerato pazientemente nell'ombra le infime ragioni involontarie che ancora trova in sé per essere non sa bene per chi colui che parla si trova a subire anche lui una di quelle sollecitazioni continue che sembrano venire dall'esterno e che ci paralizzano per qualche istante di fronte a certe fortuite concomitanze di carattere più o meno nuovo delle quali se ci interrogassimo a fondo troveremmo forse il segreto in noi stessi non c'è bisogno di dire quanto nettamente io distingo Hussmanns da tutti gli empirici del romanzo che pretendono di mettere in scena personaggi distinti da se stessi e li impostano fisicamente moralmente a modo loro a beneficio di qualche causa è preferibile ignorarlo è un personaggio reale del quale credono di essersi fatta un'idea ricavano due personaggi della loro storia di due senza preoccuparsi più di tanto ne fanno uno e ci si dà la pena di discuterne qualcuno suggeriva a uno scrittore di mia conoscenza a proposito di un suo libro di imminente pubblicazione la cui protagonista rischiava di essere troppo facilmente riconoscibile di cambiare almeno anche il colore dei capelli bionda avrebbe avuto qualche probabilità a quanto pare di non tradire una donna bruna per me questo non è puerile è scandaloso insisto nell'esigere i nomi non provo interesse se non per i libri che sbattono come porte spalancate porte di cui non occorre andare a cercare la chiave per fortuna i giorni della letteratura psicologica da fabulazione romanzesca sono contati sono sicuro che il colpo del quale non si solleverà è stato inferto da Hussmanns quanto a me continuerò ad abitare la mia casa di vetro dove si può vedere a qualsiasi ora chi mi viene a trovare dove tutto ciò che sta appeso ai soffitti e alle pareti regge come per incanto dove di notte riposo su un letto di vetro che ha lenzuola di vetro dove chi sono mi apparirà presto o tardi inciso a punta di diamante niente è vero mi soggioga quanto la sparizione totale di Lothremont dietro la sua opera e ho sempre presente al pensiero il suo inesorabile tix tix e tix ma nelle circostanze di un dissolvimento umano così completo c'è per me ancora qualche cosa di soprannaturale sarebbe troppo vano aspirare a tanto e mi vado convincendo che una tale ambizione da parte di coloro che se ne fanno scudo è nota soltanto qualcosa di non molto edificante non ho intenzione di riferire immersi nel racconto che sto intraprendendo se non gli episodi più incisivi della mia vita quale posso concepirla al di fuori del suo piano organico cioè nella misura in cui essa si consegna ai casi fortuiti dal più piccolo al più grande ma nella misura in cui contrastando all'idea comune che me ne sono fatta mi introduce in un mondo per così dire proibito quello dei collegamenti improvvisi delle coincidenze petrificanti dei riflessi più forti di qualsiasi altro impulso mentale degli accorti risonanti come su un piano dei lampi che ci metterebbero in grado di vedere ma di vedere davvero se non fossero ancora più rapidi degli altri certo si tratta di fatti di valore intrinseco poco controllabile ma che per il loro carattere assolutamente inatteso la loro violenta incidenza e per il genere d'associazioni sospette che suscitano nel pensiero un modo di farvi passare dal filo alla ragnatela cioè a quella che sarebbe la più scintillante e la più graziosa cosa del mondo se non ci fosse in un angolo nei paraggi il ragno fatti che quando anche fossero dell'ordine della più pura constatazione presentano ogni volta tutte le apparenze di un segnale senza che si possa dire di quale segnale propriamente si tratti e mi portano in completa solitudine a scoprirmi in verosimili complicità facendomi sentire quanto sia in errore ogni qua volta mi credo solo alla barra del timone occorrerebbe ordinare questi fatti secondo una gerarchia è il più semplice e il più complesso a partire dall'impulso speciale indefinibile provocato in noi dalla vista di oggetti rarissimi e dal nostro arrivo in determinati luoghi accompagnati dalla nettissima sensazione che per noi qualcosa di grave di essenziale ne dipende sino alla scomparsa completa di ogni pace interiore che producono in noi certe concatenazioni certi concorsi di circostanze che vanno assai al di là della nostra comprensione e non ammettono il nostro ritorno ad un'attività ragionata se non nella maggior parte dei casi con un appello all'istinto di conservazione potrebbe distinguere una quantità di passaggi intermedi tra i fatti frana e i fatti precipizio e questi fatti dei quali quanto a me non riesco che ad essere testimone sballordito agli altri fatti dei quali presumo di discernere gli antecedenti e in certa misura di prevedere le conseguenze c'è forse la stessa distanza che esiste tra una di quelle affermazioni o uno di quei gruppi di affermazioni che costituiscono la frase o il testo automatico e l'affermazione o l'insieme di affermazioni che per lo stesso osservatore costituisce una frase o un testo di cui egli abbia completamente considerato e soppesato tutti i termini la sua responsabilità non gli sembra per così dire impegnata nel primo caso mentre è impegnata invece nel secondo è per contro infinitamente più sorpreso più avvinto da ciò che accade là che da ciò che accade qui ne è anche più fiero circostanza certo singolare e si sente più libero tale è il caso di quelle sensazioni elettive di cui ho parlato in cui proprio la parte di incomunicabilità costituisce una fonte di piaceri ineguagliabili grazie a tutti